...uscendo credo il quinto, quindi i ragazzi conoscono molto bene questa saga e stasera loro vi faranno ascoltare la colonna sonora del primo film, quello del 2006 I Pirati dei Caraibi, le note della banda musicale I Passi di Danza di Lavinia Maiuri I Pirati dei Caraibi 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 I Pirati dei Caraibi